Buongiorno signori miei, buon giovedì, buon 26 maggio, io oggi festeggio, sì, oggi festeggio, oggi questa vittoria la sento anche un po' mia, la sento anche un po' mia, qualcuno dirà ma sei eccessivo, non è così, quante volte ho detto e ribadito, noi queste competizioni le dobbiamo affrontare con le unghie e con i denti, queste sono le competizioni in cui possiamo competere e dobbiamo farlo e la Roma di Mourinho ha fatto questo, io sono convinto che Mourinho dal primo giorno in cui ha messo piede a Trigoria, sono convinto che abbia detto ai giocatori, noi questa competizione la possiamo vincere, noi questa competizione la dobbiamo vincere perché poi la storia si scrive così e un titolo europeo mancava in Italia dal 2010, indovinato un po' sulla panchina, la solita guida spirituale, Giuseppe Mario Dos Santos Felix Mourinho, ma questa è una storia di cui andiamo a disquisire, quello che voglio centrare in questo momento è che non possiamo permetterci minimamente di fare gli snob, non voglio sentire, sminuire questa vittoria qua, ovvio, lo so, non è la Champions League, lo so, ma ci mancherebbe altro, però ragazzi miei, dobbiamo vederlo come un punto d'inizio, almeno partiamo da questo, perché dal non vincere nulla in Europa, al vincere l'Europa, la Conference League, almeno preferisco vincere questa, no? Da non vincere nulla, da oltre un decennio che non si vince nulla, al vincere almeno la Conference, preferisco vincere almeno la Conference, penso che questo ragionamento sia almeno da abbracciare da parte di tutti, perché altrimenti di cosa discutiamo? Ne parliamo ragazzi miei, parliamo della vittoria della Roma, parliamo dell'intervista di Mourinho, parliamo di questo titolo che arriva di peta ancora una volta dopo oltre dieci anni, dodici, per la precisione, prima però voglio invitarvi a lasciare un like se siete contenti e se insieme a me anche voi gioite di questa vittoria, vi invito anche a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti e cosa non meno importante? Ebbene sì, OneFootball da tenere, sempre a portata di smartphone, perché gratuitamente vi tiene informati sulle varie news che possono riguardare appunto anche la festa magari, perché poi si è fatta notte, si è fatto giorno, festeggiamenti e arriviamo a quello, arriviamo anche a quello veramente, a come una città, un'intera città abbia reagito e quando vedi tutta questa gente gioire come puoi, come puoi sminuire, come puoi snobbare, come puoi distaccare, come, perché, quando, quindi link in descrizione o QR code per tenere, per tenere, per tenerci tutti aggiornati, mi raccomando, testatela, testatela perlomeno. Sì, vengo a quello, la vittoria di Mu, la vera vittoria di Mu, che io non nego, io non posso essere ipocrita, che io ho anche minimizzato, la vera forza di Mu, io l'ho minimizzato e ho commesso anche un terribile errore, perché se sei un giocatore che, se hai giocato, scusate, sto un po' in palla, se sei un allenatore che poi ha allenato la tua squadra, dovresti anche un po' conoscerlo e riconoscerlo. E io ho minimizzato, o meglio, non è che l'ho minimizzato, lo sapevo, le sapevo, le conoscevo quelle che erano le capacità dell'allenatore dal punto di vista, no? Se vogliamo, come banalmente si dice, mediatico. La qualità di Mu, la grande qualità di Mu, è che riesce a legarsi completamente alla città, riesce completamente a legarsi a tutti o quasi i tifosi che rappresenta. Lui diventa un tutt'uno con la propria, con la gente e con la propria, con la propria di gente. Lui diventa un tutt'uno. Quanti tifosi lo hanno sostenuto l'hanno sostenuto anche quando era indifendibile. Anche quando era indifendibile. La forza di Mu è stata questa. La forza di Mu è stata scegliere la città giusta, secondo me. Questa è stata, perché molti hanno detto che era una scelta di più. Lui ha scelto bene, invece. Magari è difficile, ma lui ha scelto bene. Lui ha scelto la città adatta per lui, una città che ha risposto sempre, l'ha risposto sul campo, anche l'altro giorno. Si giocava a Tirana, ma erano 50.000, oltre a quelli presenti ovviamente a Tirana, ma erano 50.000 all'Olimpico. 50.000 e non vi dico quanti in mezzo alle strade. Questa è stata la forza di Mu. Questa è stata quella di compattare un'intera città. I suoi giocatori hanno poi risposto sul campo, poi dal punto di vista tattico io rimango della mia opinione. Penso che dal punto di vista tattico si possa e si debba anche migliorare. Vedremo poi l'anno scorso, se andiamo alla stessa partita, ieri, se vediamo quello che ha fatto il Feyenoord e quello che ha fatto la Roma. Quello c'è poco da commentare, l'abbiamo visto tutti. Quindi sicuramente, ripeto, la proposta secondo me può essere rinnovata, però il resto comunque ha portato alla vittoria. e se questo signore qua, come lui stesso dice, solo lui, solo Ferguson e Giovanni Trapattoni hanno vinto trofei europei in tre decade diverse. E lui è il primo allenatore a vincere ogni titolo europeo, no? La Conference, la Champions, l'Europa League. Cioè c'è poco da fare dal punto di vista, ripeto, dell'unire una città. È imbattibile, cioè è imbattibile, è imbattibile. Non riesco a discuterlo. Anche il sapersi, ragazzi, emozionare come un bambino. Tu hai vinto Champions, Europa League, hai vinto tanto. Vai a giocarti una competizione che, ripeto, rispetto a quello che ha vinto è un qualcosa, è un minus se vogliamo, no? Eppure lui ha quella capacità di emozionarsi perché riconosce l'impresa fatta alla Roma, alla Roma. È come lui dice stesso, no? Come lui dice, ho vinto con Porto, Inter e Roma. Una cosa è vincere quando tutti si aspettano che vinci, un'altra è quando nessuno si aspetta che puoi vincere. Penso ai romanisti, spero che possano far festa. Rimarrà per sempre. Io romanista, è il mio modo di lavorare. Sono portista, interista, celsista, con tutto il rispetto per tutti i club nei quali ho lavorato e che continuo innamorato. Non lo nasconda. Oggi romanista al cento per cento perché questa gente è una gente incredibile. E poi ci sono tante cose che passano nella mia testa. In questo momento sono da undici mesi a Roma. È facile aspettarsi questa reazione. Appunto, le lacrime, no? Le lacrime. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio a Torino, a Torino abbiamo fatto il nostro lavoro a chiusura di una stagione, qualificarci in Europa League. Oggi non era il nostro lavoro. Oggi era la storia e l'abbiamo scritta. E abbiamo scritto la storia. Queste le parole a caldo, proprio dopo la partita, ripeto, la commozione, il saper emozionarsi ancora. E forse ancora di più. Ancora di più è qualcosa che poi ti fa capire perché la gente lo ama, perché lui riesce in qualche modo veramente a amalgamarsi, a diventare un tutt'uno. Ripeto, rischio e sto diventando ripetitivo, però io credo che sia veramente questa la sua forza. L'empatia. L'empatia, il carisma. E queste sono cose che neanche poi riesci e puoi imparare, no? Ci sono cose che puoi studiare. Ci sono altre che ce l'hai nel DNA. Ce l'hai nel DNA. O ce l'hai o non ce l'hai. Questo è il discorso. E con la Roma ha portato un titolo, se non sbaglio, dopo 14 anni. Ripeto, un titolo europeo invece dopo 12. Quindi quello che non dobbiamo fare, quello che spero che non accada è che in tanti sminumeranno, in tanti magari daranno poco valore a questa vittoria. Io non credo che sia così perché quando riesci e quando hai la capacità di emozionare una città, di emozionare il tuo la tua gente, di portare milioni di tifosi allo stadio, se valutiamo tutta la stagione, quando fai questo, hai vinto. Hai vinto. Che sia Conference, che sia Europa League, che sia Champions. Hai vinto. Hai vinto. Poi, ripeto, la Champions è una cosa, la Conference è un'altra, ma non possiamo permetterci, non dobbiamo permetterci minimamente di togliere valore al cammino, al cammino fatto. Ripeto, speriamo che sia un punto d'inizio, complimenti alla Roma, complimenti a Mourinho, complimenti a loro che festeggiano, però io ripeto, io mi sento di festeggiare insieme a loro, perché finalmente avevo un titolo europeo in Italia e speriamo che sia sia il primo di tanti altri, anche se purtroppo, come abbiamo visto, veniamo da periodo di dimagra, senza ombra, senza ombra di lupo. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la carta, se volete iscrivervi al canale, un grande abbraccio. Benissimo.